Grazie, buongiorno a tutti. Vi porto il saluto del dottor Schmidt che non è presente oggi per una serie di impegni pregressi e vi dico subito che a parte il mio amato lavoro alle gallerie degli uffizi di Firenze, le ragioni della mia presenza qui non hanno a che fare assolutamente con competenze giuridiche che io possa vantare rispetto a questo consesso fatto di esperti di diritto internazionale, di persone che conducono tutti i giorni indagini di polizia giudiziaria. Io non sono brava a fare il loro mestiere, però in tanti anni di lavoro, ormai tanti anni di lavoro presso l'archivio storico delle gallerie degli uffizi io mi sono abituata a lavorare soprattutto con i carriabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze ma anche con il comando di Roma e con quasi tutti i loro colleghi degli altri 15 nuclei d'Italia perché fortunatamente il nostro archivio storico è un archivio molto fornito che permette di rintracciare prove importanti per le loro indagini non solo su casi che possono riguardare il contesto fiorentino o toscano ma anche altre parti della nostra penisola. Ultimamente ci siamo occupati e ce ne siamo occupati più intensamente fino al successo della restituzione avvenuta lo scorso 19 luglio della natura morta del pittore Jan Van Oysum che era stata trafugata nel 1944 e che dopo 75 anni è ritornata in Italia e il direttore Schmidt avrebbe detto sicuramente qualcosa riguardo a questo perché è stato per tanti versi parte attiva avendo soprattutto affermato da cittadino tedesco che esisteva a carico della sua nazione d'origine prima di tutto un dovere morale di rendere giustizia alla storia e di restituire quel bene. Quindi questo aspetto sicuramente è stato importante ma per sostenere su un piano giudiziale, extra giudiziale certe ipotesi, certe istanze occorre avere delle prove occorre rifarsi a una ricostruzione storica fatta di tanti piccoli tasselli che abbiamo avuto la fortuna di poter fare proprio anche grazie agli archivi nei quali io lavoro e colgo l'occasione per dire che fortunatamente qualche anno fa abbiamo avuto la possibilità di avere dalle eredi del soprintendente Giovanni Poggi quella che era una porzione residua del suo archivio rimasto nella disponibilità delle sue eredi il soprintendente Poggi è stato il soprintendente della seconda guerra mondiale e della successiva ricostruzione esisteva per lui come per tutti gli uomini di tutela di allora che erano numericamente molto inferiori ad oggi una contiguità casa lavoro assolutamente impressionante per cui in quell'archivio rimasto a casa sua ci sono spesso e volentieri elenchi minute corrispondenze riservate che riguardano la messa in sicurezza del patrimonio fiorentino e non solo durante la seconda guerra mondiale e alcuni documenti che sono stati necessari per impiantare l'informativa di reato che è stata portata dai carabinieri del nucleo di Firenze alla procura della Repubblica di Firenze per il caso del vanoissum è venuta anche dai documenti conservati in quell'archivio quell'archivio che è in una stanza dove io sono felice di stare anche se è un po' buia perché ritengo che sia importante e non è il solo caso quello del vanoissum che ha dimostrato che queste carte qualche volta ritenute anche polverose e di poco pregio hanno ce n'hanno tanta perché un volume come l'opera da ritrovare di Rodolfo Siviero dal quale grazie ai carabinieri già si possono depennare diversi numeri aveva al suo interno anche il vanoissum e ha all'interno tutta una serie di altre opere rispetto alle quali una documentazione nel nostro archivio esiste per cui se si daranno le condizioni per poter aprire delle operazioni di restituzione per via giudiziale o extra giudiziale nei termini che chi di dovere riterrà opportuno sicuramente questo archivio sarà una risorsa e aggiungo anche che in questo momento è in corso da parte del nostro ministero un'operazione di riconsiderazione e valorizzazione dell'archivio rimasto in via degli Astalli l'archivio di quando Siviero era commissario per le restituzioni che è affidato ora alle cure della direzione generale per gli archivi che ha capito l'importanza di questi documenti e l'importanza di andare a unire il contenuto di quei documenti con quelli che ci sono per esempio nell'archivio delle Geli e con quelli che ci sono per l'appunto da noi a Firenze oltre che sicuramente in altre parti d'Italia il caso del Vanoisum è un caso che si è risolto felicemente a distanza di 75 anni ma è dagli inizi degli anni 90 che questo recupero si stava tentando e non è probabilmente un caso che la riemersione di questo oggetto sia stata legata alla caduta del muro di Berlino nella Germania Est dove i suoi proprietari abitavano per un lungo tempo evidentemente non è stato possibile parlare di mercato o pensare in qualche modo di rimettere in circolazione questo bene si è provato immediatamente nel 1991 andando a Monaco di Baviera per un restauro del bene e anche per andare a informarsi su quello che poteva essere il suo valore i funzionari restauratori e storici dell'arte di Monaco informarono a quell'epoca il nostro soprintendente Paolucci e fu aperto un fascicolo aperto e chiuso perché era impossibile identificare i proprietari dell'opera poi per tutto il corso degli anni 2000 c'è stato un tentativo ripetuto di mettere il vaso sul mercato da parte della famiglia e ci sono stati tentativi di interlocuzione per il tramite dell'ambasciata ma anche diretti con le gallerie fiorentine per arrivare a un'ipotesi addirittura di eco indennizzo che è stata chiaramente negata per tutta una serie di ragioni che voi comprendete meglio di me è stato un passo falso o voluto del loro legale rappresentante ad aprire nuove prospettive questo avvocato notaio si è presentato dal direttore della galleria palatina dove il vanoisum si trovava prima di andare nei rifugi bellici e poi sparire per tentare di nuovo di concordare un indennizzo per quest'opera volutamente o forse no si è dimenticato una cartellina piena di documenti che la mia collega della palatina mi ha segnalato mi ha telefonato mi ha detto che faccio io ho detto credo che non ci arrestino se noi prima di renderla la fotocopiamo l'abbiamo fotocopiata questa è rimasta agli atti nostri perché il caso complessivamente si era arenato davanti a questo muro del non indennizzo e quando nuovamente questo caso è riarrivato sulla scrivania del maggiore di Sibio la cartellina è stata acquisita formalmente è stata tradotta e quindi siamo potuti arrivare attraverso tutta una serie di passaggi all'identità delle persone che avevano l'opera e poi con un ritmo devo dire abbastanza concitato che è stato impresso dall'uscita pubblica del nostro direttore con l'auspicio di inizio anno della restituzione a luglio noi abbiamo avuto questo quadro qualcuno ha detto avete lottato per un bene alla fine secondario delle collezioni della galleria palatina l'ha detto anche qualche giornalista mi sento fondatamente di dirvi di no ma non per le ragioni che tutti voi potreste condividere ma per un altro fatto quel quadro era un quadro che era stato comprato nel 1824 da Leopoldo II detto Canapone per una esorbitante cifra a Vienna per essere destinato ad arricchire le collezioni di pittura fiamminga delle gallerie fiorentine che sono seconde solo a quelle del Riesk Museum di Amsterdam perché i medici sono stati dei collezionisti precocissimi di pittura fiamminga Vanoisum è un pittore raro che costava tanto anche nell'Ottocento proprio per la sua rarità e attesta e attesta lo abbiamo ancora di più scoperto negli ultimi tempi che la posizione dei Lorena che poi erano sovrani dell'Europa di allora di tutto rispetto era una posizione tutt'altro che da dominatori nei confronti della nostra città ma di persone che svuotando letteralmente i loro castelli della Lorena a Commercy e tanti altri hanno portato le opere che stavano in questi castelli proprio da noi a Firenze c'è un nuovo filone di ricerca che passa per la lettura degli inventari in francese di questi castelli e che ci ha testimoniato anche dell'arrivo di altre opere importanti in particolare un caso che è stato difficilissimo da ricostruire di una bella copia della cattura di Cristo di Caravaggio quella il cui originale per intenderci si ritiene essere quello della National Gallery di Edimburgo oggi e che però veniva dalla era stato fatto da Caravaggio per la collezione Mattei è una copia di buona qualità che non a caso è stata per tanti anni in deposito esterno presso la caselma val di sera dei caraviglieri qui a Firenze che abbiamo restaurato e nello studiarlo è venuto fuori tutto questo filone di ricerca su gli apporti lorenesi alle collezioni fiorentine che è tutt'altro che trascurabile e che quindi è un motivo in più per dire che questo è stato un recupero importante e tanti altri documenti tanti altri casi si potrebbero aprire io ho una confusa cartellina che si chiama Carabinieri nella quale ho messo tutte le lettere che arrivano da mezza Europa proprio relativamente a questi beni che stanno nell'opera da ritrovare di Rodolfo consigliere non sia mai che dando strumenti meramente archivistici e conoscitivi chi poi ha altri tipi di professionalità possa riuscire nell'intento sicuramente i Carabinieri ce la mettono tutta mentre noi siamo a ragionare del loro operato e di queste tematiche primariamente interessanti per loro loro con un convegno internazionale stanno celebrando a Roma ieri e oggi i loro 50 anni di storia e presto ci sarà anche un libro dedicato a questi 50 anni di storia nel quale leggerete una storia più dettagliata del Vanoisum che loro stessi hanno scritto e quindi speriamo di poter continuare su questa strada io faccio molto volentieri quello che faccio mi sembra che sia abbastanza chiaro e spero di riuscire a imparare anche a fare di più grazie 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 grazie